Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Sarascino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad un signore di Vienna, Austria, anzi una signora di Vienna, Austria, la quale mi dice, dottore le ho provate tutte, mi hanno fatto rassegnare che non si può fare nulla, perché non riesco ad eliminare il mio stress, i miei nervi, ho sempre questa faccia incazzosa. Mi stresso per nulla, che cosa posso fare con l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola? E io gli ho risposto che esiste un capolavoro di caratura veramente internazionale dal titolo un audio di CS molto potente e naturale dal titolo No Stress, molto controllo dei nervi. Che se tu segui l'istruzione alla lettera molto facile, alla prova di un nonno, alla prova di un idiota, alla prova di un pigro, tu passerai dall'essere stressato ad incanalare quell'energia, a trasformarla in superenergia per essere più produttiva, più produttivo, più lucido, più lucida, più sicuro, più sicura in tutto ciò che fai e farai. Un vero e proprio capolavoro. Direttamente da Los Angeles Beverly Hills. Le suggestioni sono suggestioni parole di CS create ad arte, ad hoc, comprensibili, naturali, trasparenti, senza nessun effetto collaterale, senza nessuna forma di manipolazione, pulite, trasparenti, però create ad arte, ad hoc, che guideranno il tuo subcosciente a realizzare il miracolo della propria mente. È un qualcosa, ragazzi, che quando io nel 2008, con la dottoressa Rina Brunini, l'ho provato, ho detto wow, 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 wow. Eppure fino a quel momento ero un'improdista autodidatta, le avevo provate tutte di più. E questa energia non l'avevo mai, mai sentita, mai, mai sentita. Ti garantisco che non esiste uguale nel mondo. Non esiste uguale nel mondo. Infatti la mia mission qui non è vendere, perché grazie a Dio sto bene per le prossime 37 vite. Grazie a Dio, grazie alla mia mente, grazie all'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. La mia mission è divulgare questo potente mezzo, che è l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Ho messo dieci anni per mettere la mia faccia su questi schermi, perché voglio, prima di morire, trasmettere tutte le mie esperienze. Non mi interessa poi che qualcuno mi accusa di non fare la cosa giusta per vari ovvi motivi di reputazione, perché ho delle responsabilità a livello internazionale, non mi interessa. La molla è scattata quando ho visto una persona a me cara dopo tanti anni e quindi la mia mission è lanciare questo messaggio, questa bottiglia, con un tappo di sughero e un messaggio invisibile in questa bottiglia, lanciato, buttato nell'oceano della vita, dell'eternità. Poi tu che mi ascolti sarai te a dire sono pazzo, sta dicendo la verità, voglio provarci, perché se tu sei scettico, scettica, le hai provate tutte, zero risultati, come lo ero anch'io poi, d'altronde, quando ero uno studente lavoratore senza un'aria in tasca, non credevo a nulla, io mi ricordo prendevo i baci perugine, li accartocciavo, leggevo le prime due parole, li buttavo nel cestino perché dicevo tutte sciocchezze, tutte minchiate. La verità era che in quello spazio-tempo non avevo capito nulla. Oggi l'ho capito sulla mia pelle, sul mio corpo, ma anche perché ho aiutato centinaia e centinaia di persone nel mondo a cambiare in positivo, ad eliminare i loro problemi con il potere della loro mente e l'ipnosi di CSV era professionale con la V maiuscola. Per cui se tu ti trovi con questo stress, questa rabbia, come ero io tanti e tanti anni fa, quando fumavo tre pacchetti di sigarette, una sigaretta spegnevo, una l'accendevo, andavo in tilt, tachicardia, faccia rossa, pressione a non posso, urla, rabbia, quando succedeva un problema di qualsiasi natura, perché ipnotizzato da mio padre che ero una persona da piccolino burbera, padre padrone, anche se è stato un gran papà alla fin fine, però non ci parlavi, non ti dimostrava con l'esempio di essere calmo, di dominarsi, di controllarsi, e i figli sono nati come lui, giustamente, non sono cresciuti come lui, rispetto a mia madre a mezza suora mancata, la quale predicava a senso unico, e la seme andava a quel paese tre per due. Però grazie a Dio, grazie all'ipnosi, nulla succede per caso, me ne sono uscito, sono qui a raccontare le mie esperienze di vita, per il bene tuo e il bene dei tuoi cari, perché tu puoi utilizzare l'ipnosi di CS vera professionale, la B maiuscola, anche per chi non vuole o chi non può essere aiutato, ed è l'unico metodo di CS al mondo, l'unico, non esistono altri metodi, che servono anche per le persone che non ne vogliono sapere di essere aiutate, perché pieni di sensi di colpa, colpa significa punizione, la punizione se la danno anche da soli quando i genitori non ci sono più, dai dolori cronici a tutto il resto. Ok, fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni, perché sono spessissimo all'estero, visite il mio sito internet www.iprolegiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, il pronome, il pronome del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino e faccia il condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita, seguimi anche sui altri social Instagram e Twitter Benessere Ipnosi Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino, un bacio e un abbraccio amico mio, amica mia, dal dottor Claudio Saracino e alla prossima.